Riforme necessarie per la sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale, ma a rischio per fibrillazione da referendum. A esprimere grande preoccupazione per questo quadro chiaroscurale è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sulla base dei primi dati dell'Osservatorio Gimbe sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, illustrati alla sessione inaugurale del Forum su Risk Management a Firenze. L'Osservatorio fotografa una sanità pubblica in cui il futuro appare inevitabilmente condizionato da un'agenda delle riforme a rischio stallo, dall'incerta copertura finanziaria per i nuovi LEA, oltre che da eventi contingenti e opportunistici passi indietro. In particolare, se l'agenda sulle riforme messe in campo in questi anni dal Governo punta ad una sana riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzata a ridurre gli sprechi e ad aumentare il ritorno in termini di salute e delle risorse investite, rileva Cartabellotta, la pressione per la consultazione referendaria ha inevitabilmente condizionato alcune decisioni d'autunno, determinando rallentamenti e dietrofront che rischiano di compromettere l'enorme lavoro di questi anni. E se è verosimile che una vittoria referendaria del sì potrebbe ridurre diseguaglianze e iniquità sul nostro Servizio Sanitario Nazionale, non con il temuto neocentralismo, ma solo aumentando le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui servizi sanitari regionali, è altrettanto vero, sottolinea, che la disordinata incoerenza degli ultimi provvedimenti non ha permesso al Governo di puntare in maniera compatta sulla sanità, tema che sta a cuore a 60 milioni di persone, quale leva per il referendum costituzionale.